Adesso ci indica di tornare allo specchio, quindi mi rimane un ultimo posto da cercare E a meno che in realtà lei ci ha detto Morgante che una volta entrati nello specchio saremmo entrati all'interno della stazione E se fosse quella l'ultima? Allora quindi c'è qualcosa di strano abbiamo detto qui ed è la quest dei cartelli Quindi io devo trovare il modo di partire nel modo giusto qui Fammi indovinare, devo parlare con te? Ehi, puoi salire un attimo su questo pulsante? Questo è il primo di quelli che i ranger chiamano cartelli mobili Secondo alcuni se si sali nei suoi pulsanti è il giusto ordine e si seguono tutti i segnali se arriva un tesoro Altri dicono che porti un grande loop Ma questi pulsanti si disattivano per caso? Catturato! Uh, un buon attaccante di mischia e la sua evoluzione l'ho anche vista, quindi vuol dire che è anche meglio Allora mi ha detto di andare in basso, quindi vuol dire che devo andare qui Esatto, qui Poi aprirò quello che girerà a sinistra Ok Però non dobbiamo fermarci su quelli prima, dobbiamo andare dritti Esatto Aiuto non venire da me Uff, bravo Giù Perfetto È un grande loop per davvero Destra Questo mi manderà su Sì Dritto Sinistra Giù Perfetto Bom Preso anche questo Non so se finiremo tutto il Pokédex, però Tentarne un nuoce Eccoci qua Destra Sì Spero di aver fatto quello giusto Ok Adesso vanno ad angolo Vediamo Ok Adesso va lì ad angolo Ovviamente Sia mai Sopra Sopra E quindi ce ne sono alcuni di bottoni che non servono a nulla Madonna mia Sì Lo sapevo Ok Dobbiamo quindi adesso risolvere il grande enigma E se io vado di qua Scusami Però i mostri da queste parti sono di livello Meno della metà del nostro Quindi L'arcangelo penso che sarà un po' indietro Sai Non pensavo che Che fosse una soluzione andare da questa parte Solo un forziere dice la verità Allora iniziamo Ad aprire il passaggio Poi Dopo vediamo Siamo tornati All'inizio Abbiamo fatto il giro La chiave si trova in questa cassa La chiave non si trova nella cassa più a sinistra Non si trova in questa cassa Io aprirei quella al centro Non lo so Tanto mi basta un raggio per ammazzarli tutti Quindi Ah vabbè ma ricevo delle ricompense allora Aprendole tutte Che me frega Ah Era questa quella giusta Fantastico Ok E questo è aperto Oh anche questo non ce l'avevamo Aspetta voglio catturarlo Se non sparo il raggio della morte lo catturo Ovvio Perché mai lamentarsi d'altronde no? L'abbiamo buildato così Voglio dire Ok Quindi immagino che devo risolvere l'ultimo puzzle Che è quello là sotto Tre sotto blu Tre sopra rossi Blu rosso blu Ok E non è facile Non è facile questi qua Sono belli come Come giochini Però Ti fottono Sempre Ah Ok questo non era previsto Però grazie Ah che ce l'ho fatta Finalmente Tutti rossi Non ne valza mai la pena Però Oh finalmente Meno male Allora Allora Due E tre Fantastico Missione compiuta Pian piano credo di essermi abituato alla sensazione che mi dà trovarmi nelle stazioni Il segreto è non badare al fatto che la tua testa sembra in procinto di scoppiare E chi sarà il nostro avversario di grazia? Vediamo Un cubo uscito dal Nintendo 64 Lo spazio tridimensionale è imperfetto La scienza e la matematica restano vere Tutte le cose hanno quattro lati Direi che è quell'affare fuori di testa Ma sembra che la testa gli manchi del tutto No in voi percepisco incoerenza Siete esseri perfetti Lasciate che vi dia una rattrezzata dagli angoli Tu sei quindi? Solido neoplatonico Arcangelo Esecredeo Ok si inizia la grande Fantastico E allora voglio fare un piccolo change Mettiamo Zeusetta Tu inizia a colpirlo Che così dai prossimi turni Pam 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 E' elettrificata in faccia proprio Ma era il simbolo di Game Freak quello? Evoca tulpa Che cazzo è una tulpa? Sai che lo farei per vedere come si fondono Ma non voglio sprecarla Potenza PA così ce lo dà a entrambi Tu caricalo E poi batterizzalo Bellissimo Bellissimo tutto Che fa? Niente Ce la fa? Non ce la fa Ora cambiamo di nuovo Con la trifinge Sperando che faccia già Le sette meraviglie Ok confuso Che poi a livello 38 Non è tantissimo sotto Ma meglio di nulla Niente? Niente Perfetto Aia Ok Meno male Neutralizzata la confusione Va benissimo Va benissimo Così Credimi Poi Carica Ok Sta per arrivare al massimo Quello Spacca Maroni Aia Aia Ok Dai che però tanto abbiamo vinto Bordi taglienti Danni a contatto Va bene Non importa Sette me Anzi No 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 Abbiamo vinto Non mi va di sprecarla Sette meraviglialo E tu Lo so lo so Ti beccherai un danno d'austione Ma batterizzalo Tanto mi sa che abbiamo vinto con lei Non c'era neanche Bastardo Eh vabbè Grande Eh lo so Mi spiace Fra E' stato sciolto del tutto Terra della confusione Quindi abbiamo Sconfitto tutto Completa la canzone di Morgante Se davvero te ne vuoi andare Presta attenzione a quel che canta Il tuo valore dovrai dimostrare Il tuo cammino si allungherà alquanto Vola occidente sulle tue ali Fino a un luogo che io sola conosco Lì troverai le mie stanze segrete Ora li trovo di vuoto e quiete Procedi dunque da lì a settentrione Dove le strade si vanno incontrare Dove la terra ti porta nel cielo E sulla neve potrai camminare Tra queste terre c'è un fiume che scorre Fino alla fonte ti porta al sentiero Dome di brilla il folgore e il lampo Varca la porta con animo fiero Con questo luogo Con questa azione Ecco che arriverai alla stazione Ascolta e mi troverai quel luogo proibito Che ti riveda nello spazio infinito Canzone completa Solido neoplatonico Possibile che anche i miei angoli Siano imperfetti I calcoli erano corretti Ho fallito in tre dimensioni Contemporaneamente Che tempismo Stavo giusto pensando di reclutare Qualcuno che fosse bravo con i numeri Posso offrirti un lavoro O mio nuovo amico cuboide Mi sa che accetterà Dobbiamo smettere di incontrarci così Vuoi berti un caffè assieme Credo che sia da aggiungere alla lista Di cose strane che hanno cercato di uccidermi Su quest'isola Ottimo lavoro Non importa con chi sei Ogni battaglia con un arcangelo Sembra finire con la comparsa indesiderata di Aleph Non è vero? Comunque dicevi che quando sei arrivato Alla loggia Umbret E sei andato attraverso La stessa roba di prima Ok Quindi basta Non mi aggiungono nient'altro Sanno già che abbiamo trovato la porta Ma niente Non gliene frega niente Tutta la storia Talvolta il terreno da queste parti trema Come se un enorme bestia Sfrecciasse in una galleria Sotto i nostri piedi Senti Queste rocce hanno una strada disposizione Tu che dici? Ok Credo Che ne manchi una Oh guarda Una fusione fuori controllo Non posso entrare in acqua Cos'è? Veleno? Mercante giro Oh dio Non lo vedevamo credo Da inizio gioco questo E beh lui è raro da trovare in giro Livello 41 Ok Questo non ce l'abbiamo Quindi direi di catturarlo Preso Ok Come immaginavo Bastava mettere Un altro sasso Nel buco giusto Ed è apparsa un'altra ferrovia Questi funghi giganti Hanno davvero Un'area da nightclub E cosa c'è qua dentro? Un'altra area Ok Dobbiamo usare le scatole Per tenere aperto Ok Un andato Due andati Mi viene da chiedermi Quanto prima avrei dovuto fare Questa stazione Visto che Immagino che il gioco Non si aspettasse Che io avessi tutti Questi potenziamenti Già adesso Un forziere Sarà dentro la chiave Oh dio mio Il livello 10 Componente meccanico Grazie Ecco fatto Grazie del biglietto E ora possiamo entrare Enigmi di primo ordine Ah stavolta non dici nulla Meredith Strano Però abbiamo già trovato Tutte le canzoni In teoria Non ci dovrebbe essere Nient'altro in giro Giusto? Dio mio Cosa sei? Siete nuovi giocattoli Per la mia collezione Ne desidero ancora Mi dispiace amico Non siamo qui per giocare Sì voi due sarete Un'ottima coppia Di burattini Ah 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 Eh vabbè Pupazzaro Che il maestro Dei burattini Oh meno male che abbiamo In collocazione Livello 31 Ho già capito la battaglia Vedete che uno è illuminato E gli altri due no Secondo me Il fatto che abbiamo Multicolpo Ci fotte adesso Sai? Ha cambiato posto Ah No No non va bene Non va bene no Questa battaglia Perché se abbiamo In collocazione Lui continuerà A spostare I pupazzi E noi a prendere danno A meno che Non gestiamo tutto Con il muro Questo qua è forte Ma per il motivo Sbagliato Non va bene Questa battaglia Ok La battaglia è persa Hai ripreso i sensi Ah sei sveglio Per fortuna Qualcuno ti ha portato Nella clinica Se ne salvo Chi è entrato Nella stazione? Ok ho dovuto fare Dei dovuti E necessari cambi Ok questa volta Siamo preparati Nel modo giusto Per fortuna Ovviamente Colpire Bisogna colpire La parte illuminata Per fortuna Lui si sposta Prima che noi attacchiamo Quindi siamo avvantaggiati Ora si che è uno scontro Giusto Quello di prima no Aia Ok Meno male che non ha fatto Abbastanza danno Taglia legna Su questo E tu Carica su quello E' una cavolata Come sconto Però prima Ci aveva fregato Davvero In una maniera stupidissima Già siamo A meno della metà Della vita Cioè ci abbiamo Messo veramente Il niente Batteria E questo sarà L'ultimo colpo In teoria Quanto ci abbiamo messo Un minuto e mezzo E' stato facile Beh non serve più La canzone Abbiamo già fatto Il maestro Dei burattini Le mie bambole Avete ucciso Le mie bambole Che eravamo noi Piacere di conoscerti Amico col cappello Dimmi Stai cercando Un nuovo lavoro Parliamone Ah le mie nuove Recute Sono davvero Turbolente Per fortuna Sto perfezionando Le mie abilità Di maneggiarli Crearimmo Un'atmosfera Di lavoro Davvero positiva Ne sono contento Per te Aleph Ehm Spero che Quell'arcangelo Abbia capito Che non sono Il giocattolo Di nessuno E ora mi ripete La stessa roba Di prima vero Perché quell'Aleph Parla come un piccolo Imprenditore Da paura bello Quindi siamo arrivati Al punto in cui Abbiamo fatto Tutte quante Il pezzi della canzone Io direi di fare La cosa più ovvia Non andiamo dritti Dove dobbiamo Al finale Ma andiamo a farci I capitani Ce ne mancano Dieci Quanti ne abbiamo qui Nove Ok me ne manca uno Magari si paleserà Una volta che Oppure me lo dici tu Ho sentito che il famoso Survivalista Il capitano Judas Si è accampato All'isola sud est Judas però L'ho già incontrato Però Esatto È l'ultimo che ci mancava Perfetto Grande È l'ultimo che ci mancava